Sono in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo, perché ho subito più di 2.500 udienze e ho la fortuna avendo lavorato bene nel passato, avendo messo da parte un patrimonio importante, di avere potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione naturalmente continua di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. 200 milioni di euro per consulenti e giudici.